La visita del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia a Sorrento per gli Stati Generali del Turismo, primo appuntamento ufficiale, è un segnale di attenzione per i nostri territori. L'Italia, prima del Covid nel 2019, era il quarto paese più visitato al mondo, con 94 milioni di visitatori, secondo l'Enit, con un numero pari a 217,7 milioni di presenze straniere e con 432,6 milioni di presenze totali e 40 miliardi di fatturato. Una miniera per il Sud, nonostante la carenza di infrastrutture degne di questi numeri. Ci aspettiamo una svolta dalla guida leghista al di Castero. Dalle premesse sembra avviata una nuova fase per lo sviluppo turistico del Mezzogiorno. In bocca al lupo al Ministro Garavaglia, che siamo certi farà cose importanti per il Meridione. Lo dichiara il segretario regionale della Lega in Campania, l'On. Valentino Grant.